Volevo semplicemente introdurre lei dicendo che mi è stato fatto il suo nome perché dicono che sia un grande fannullone e un farabutto in quanto medicina. Io so che lei fa delle manovre abbastanza spiacevoli nei confronti dei pazienti e qui abbiamo appunto chiamato lei per poter dimostrare a tutti quali sono i danni causati da una semplice prova della pressione. Ecco, questo possiamo ovviamente parlarne con lei e d'uncisi in fondo vediamo ad introdurre l'ultimo ospite che è l'onorevole dottor professor cavalier senator d'eccellenza eminenza carmelo lasci stare buonasera eccellenza eminenza carmelo lasci stare facendere pubblico per conto terzi a messe a cartanisetta come potete vedere il nostro mater è un aggramito prendo la mia seggio lina un attimino per cortesia un attimino scusate un secondo dica professore ok si può introdurre lei il discorso no ma devo intervenire e forse sì sì mi dica di che lei ha una delle dimostrante io non le dico allora facciamo una cosa è lei si mette lì e lui sta qui vediamo se no no scusa no 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 vediamo un attimino se vuole lei lei ha proposto vedo già che ci sono un po' di screzi per il nostro io direi direi fa sì che ecco vediamo un attimo di poter ecco scambiate dei posti scambiatevi bene nei posti tutti i motivi uguali non ci metterà ecco scambiatevi ci sono nessun tipo di problema il nostro